Grazie a tutti. Il regionale Marco Tedde con un'interrogazione. Oggi intanto a Roma il sindaco Bruno incontra il direttore dell'ATS Moirano. Per l'amministrazione il bilancio del Capodanno e di meschie un messe è positivo, tutt'altro per Forza Italia che torna sulle spese. Intervista al forzista Michele Paes che chiede conto delle ricadute. La signora Giovannina Pistida ha festeggiato ieri il suo compleanno, 110 anni, è la più anziana della Sardegna. Ieri il taglio della torta nel centro anziani. Ben ritrovati a tutti voi telespettatori di CatalanTV. La sanità in apertura DTG perché il 2018 dovrebbe essere l'anno del primo livello per Alghero Zieri e per un passo decisivo verso la costruzione del nuovo ospedale. Questo almeno sulla carta ma permangono i dubbi sollevati soprattutto dal consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde che ha presentato una nuova interrogazione. Questo pomeriggio intanto il sindaco Mario Bruno incontra il direttore generale dell'ATS, Fulvio Moirano. Tutti i passaggi operativi e propedeutici all'attivazione delle nuove specialità previste nel presidio di primo livello Alghero Zieri tra le quali la rianimazione e la terapia intensiva polispecialistica oltre alle discipline di oncologia e lungodegenza così come inserite nella rete ospedaliera recentemente approvata e il crono programma dettagliato di interventi progettuali necessari per il riavvio dell'Iter per la realizzazione del nuovo ospedale della città saranno al centro dell'incontro in programma nel pomeriggio a Roma. Nel faccia a faccia tra Bruno e Moirano si dovrebbe parlare anche delle attuali criticità riscontrate nel centro di salute mentale territoriale e in ortopedia con l'avvio del trasferimento funzionale tra l'ospedale marino e il civile. La rinchiesta di incontro con i vertici dell'ATS è raggiunta qualche giorno fa dal primo cittadino algherese con una lettera inviata anche al direttore dell'area sociosanitaria locale di Sassari, Giuseppe Pintor. Si sente forte in città e nel territorio dell'intera area sociosanitaria sassarese l'esigenza di migliorare i servizi e inalzare gli standard qualitativi di erogazione nelle prestazioni così da garantire quei livelli di assistenza necessari e perseguiti con l'attesa riforma, ha spiegato Bruno. Si è appellato all'assessore Arru, al presidente della regione Pigliero invece, il consigliere regionale Marco Tedde con una nuova interrogazione presentata proprio nei giorni scorsi. L'ex sindaco segnala nello specifico che oggi non risulta che né la giunta regionale né l'ATS abbiano adottato gli atti necessari all'avvio dei servizi per l'ottenimento del primo livello i quali per complessità e la rilevanza delle risorse finanziarie umane da impiegare richiedono tempi lunghi che non potranno esaurirsi in poche settimane o mesi. Ma punta anche il dito sul monitoraggio previsto nel 2018 stesso, a differenza di Sangamino-Morreale per il quale è stata prevista invece la classificazione definitiva quale presidio di primo livello senza subordinarne l'istituzione alla realizzazione della reanimazione. Quindi, segnala Tedde, il territorio di Cagliari avrà un DEA di secondo livello e 4 di primo livello mentre Sassari avrà il secondo livello ma neppure un presidio di primo livello con conseguente saturazione delle liste d'attesa che già oggi evidenziano le numerose criticità con le quali il sistema sanitario regionale del nord-ovest della Sardegna dovrà difficoltosamente convivere. Quindi il nodo nuovo ospedale con ancora Sangavino che può beneficiare di 68 milioni al contrario di Alghero a secco di risorse nonostante la promessa di una futura realizzazione. Le promesse però non bastano più e Tedde chiede nell'interrogazione tempi certi e atti concreti sia per il primo livello sia per il nuovo ospedale. Cambiamo argomento, parliamo di Capodanno e degli appuntamenti di mescheummes. Forza Italia aveva attaccato l'amministrazione per quelle che definì spese pazze in riferimento ai 300 mila euro spesi, cifra tra l'altro confermata in conferenza stampa lunedì. Su questo siamo tornati con il consigliere comunale azzurro Michele Pais. L'amministrazione con la Fondazione Alghero nei giorni scorsi ha fatto bilancio, a loro dire positivo, di mescheummes del Cadean. Voi come Forza Italia avevate duramente attaccato l'amministrazione per le spese pazze. Innanzitutto l'amministrazione ha indicato le spese che erano esattamente quanto da noi denunciate e che in una prima battuta l'amministrazione aveva negato in consiglio comunale proprio in occasione di una mia segnalazione. Quindi questo è un primo dato importante. Secondo noi non contestiamo gli investimenti di turismo che anzi sono assolutamente necessari. Noi contestiamo il fatto che questi investimenti debbano essere in qualche maniera produttivi, debbano creare quel valore incrementale rispetto all'investimento effettuato e riteniamo che questo non avvenga. Ciò fa il paio rispetto alla politica fallimentare in materia di trasporti della Sardegna che ha smontato un sistema di sviluppo virtuoso che noi avevamo creato e che vorremmo che si riprendesse. In merito alle spese pazze ce l'ha stato anche tra l'altro un duro botte risposta tra voi e l'assessore Esposito. Avevate chiesto le scuse dopo certe dichiarazioni. Sono arrivate queste scuse? No, non sono arrivate. È un'occasione persa da parte dell'assessore Esposito. Non si può utilizzare la politica per consumare vendette personale. La politica è l'amministrazione della cosa pubblica e gli attacchi gratuiti alle persone debbono essere assolutamente evitati. Noi ovviamente facciamo il nostro ruolo di opposizione. Un'opposizione elevata impone un'amministrazione elevata e noi continuiamo e continueremo su questa linea l'interesse esclusivo degli algheresi. Non ci interessano le schermaglie personale, ci interessa il bene della città e dei cittadini. La signora Giovannina Pistida ha festeggiato ieri il suo compleanno. 110 sono gli anni. È la più anziana della Sardegna. È nata il 23 gennaio del 1908. Ha tornato dai suoi familiari nel centro anziani di Alghero. Presente anche il sindaco Bruno. La signora Giovannina è assistito alla Santa Messa nel salone della struttura di Viale della Resistenza, come fa ogni anno. E poi ha tagliato la torta di compleanno nel corso della festa in suo onore. Ha voluto ringraziare tutti nel suo lucidissimo discorso tenuto davanti ai giovani ospiti del centro anziani. Un omaggio floreale da parte del primo cittadino che ha voluto sottolineare l'esempio della signora Giovannina nel cui volto ha detto c'è tutta la bellezza della vita. E anche noi di CatalanTV facciamo i migliori auguri alla signora Pistida. Un anno di grande impegno per la polizia locale. Dai grandi eventi alla sicurezza e lotta all'abusivismo, il corpo guidato dal comandante Guido Calzia composto da 65 persone, tra agenti a tempo determinato ed indeterminato ufficiali, personale amministrativo, guarda avanti ad un 2018 altrettanto impegnativo. Un report del lavoro svolto nel 2017 nell'ambito delle molteplici attività riconducibili alle varie funzioni inerenti al controllo del territorio e delle attività svolte in relazione al rispetto delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze, ma anche attività attinenti alla pubblica sicurezza. Vede una particolare attenzione posta alla sicurezza con 72 sanzioni per mancanza di assicurazione, 262 mancate revisioni, 72 per guida con cellulare, 207 per mancanza di uso delle cinture di sicurezza. A partire dall'estate appena trascorsa inoltre è stata intensificata l'attività per il rispetto delle ordinanze in materia di conferimento dei rifiuti che ha portato ad elevare oltre 50 sanzioni per violazione delle norme. Grande attenzione al comparto commerciale con una specifica attività per la lotta all'abusivismo con 288 controlli effettuati, 40 sequestri di merci a venditori ambulanti, 4 chiusure di locali inoltre per violazione di ordinanze su rari relativi alla musica. Sono stati 39 inoltre i casi di occupazione abusiva di suolo pubblico mentre sul fronte della gestione del traffico urbano la polizia locale è intervenuta su 180 incidenti stradali di cui 94 con lesioni e 86 con danni alle cose. Facciamo ora una prima pausa per la pubblicità a tra poco. Ritorniamo in studio. Abbiamo parlato ieri della bocciatura di un emendamento alla finanziaria regionale per assegnare più risorse ai cori e alle bande musicali della Sardegna come denunciato dal consigliere forzista Marco Tedde. Risorse che in alcuni casi sono indispensabili per la loro stessa sopravvivenza. Noi abbiamo intervistato quest'oggi proprio il direttore artistico e cofondatore di uno dei cori cittadini, la Coral Alghè Terra Mia, ovvero Nando D'Alerci che ha parlato delle difficoltà, una su tutte, quella della sede. Il consigliere regionale Tedde nei giorni scorsi ha parlato di risorse per i cori, per le bande, l'ambiente è particolarmente attivo anche all'Alghiero. Voi siete uno dei cori, possiamo dire, più importanti della città di Algiero. Quali sono le difficoltà? Perché qua si parla di risorse ma ovviamente c'è un problema di fondi e non solo. Di fondi che sarebbe il caso veramente di dare un'occhiata anche a questa parte di Algiero che con le chiacchiere siamo un po' tutti bravini. Poi dal lato pratico siamo sempre, diciamo pure, in mano agli altri per essere molto chiari. Nel nostro caso abbiamo fra le disgrazie, se può essere così, la sede che non riusciamo mai a trovare un punto di appoggio di un certo tipo perché siamo sempre, grazie alla bontà di qualche prete, di nostra conoscenza, siamo un pochino in una chiesa, in altri momenti in altra chiesa, come lo saremo per questi giorni, problemi ne abbiamo a vendere. Speriamo che sia la volta buona, che qualcuno prenda un pochino a cuore anche questa cosa che fa parte di Algiero, non è che faccia parte di chissà quale situazione. E siamo qui, aspettando che qualcuno si svegli e ci dia anche noi la sveglia per avere la possibilità, diciamo pure, di incrementare il nostro programma, di avere la possibilità di trovarci più spesso, perché noi lo facciamo, però vi ci mancherebbe. Ma non riusciamo a avere una sede al limite della decenza, della tranquillità, dove praticamente non soltanto andremo nel caso a fare le nostre prove, ma c'è sempre la possibilità, diciamo, di un collega che viene da un altro paese, da un turista che molto spesso, per un caso, si trovano nei palaggi nostri, diciamo pure durante le prove, fa piacere, insomma, far vedere cosa facciamo, in che modo lo facciamo, in un modo molto familiare, e bisogna contentarci di quello che passa in convento. Certo, quindi abbiamo detto delle difficoltà che ci sono, però comunque il collega Eteramia va avanti, fa tante serate, siete stati protagonisti di diverse iniziative. Sì, abbiamo fatto qualche serata, è qualcosa anche abbastanza di recente, però non c'è, come al solito, un minimo di programmazione, perché a noi capita qualche volta di andare a passeggio per le strade, il centro storico al Ghero, e ci ritroviamo senza dover cacciare nessuno, ma ci ritroviamo con qualche altro gruppo, con qualche altro mezzo pirata come noi, che in qualche modo approfitta della situazione, e con permessi più o meno validi, ci troviamo negli stessi punti, nelle stesse situazioni. Potrebbe essere anche la volta buona di dare un minimo, dico, di programmazione, di decenza anche a questa cosa, perché no? Quello che comunque è composto da tante persone che sono unite dalla passione, appunto. Solo dalla passione, e diciamo, finché ne avremo voglia, ci mettiamo anche qualche cosina di tasca, perché è evidente che andiamo in via proprio di amicizia, ci troviamo una volta, qualche volta, anche due volte alla settimana, ne approfittiamo per ricordarci quello che è stato, e anche per vedere un po' se riusciamo a fare qualcosa, diciamo, pure di più importante, perché no? Si annuncia all'insegna del tutto esaurito anche il secondo appuntamento di Gias Alghè, la rassegna che ha preso il via lo scorso 23 dicembre, con il progetto Altissima Luce di Paolo Freso e Daniele di Bonaventura, nella suggestiva e affollata cornice della Cattedrale di Santa Maria. Registra già il sold out per il concerto in programma questo sabato 27 gennaio al Civico, al centro dei riflettori, a partire dalle 21, Filomena Campus, la cantante sarda di casa a Londra, alla testa del suo quartetto inglese, con Stevie Lauder al piano, Dudley Phillips al contrabbasso e Rod Youngs alla batteria. I biglietti gratuiti messi a disposizione del pubblico la scorsa settimana al Qualte sono infatti terminati, così come i posti che era possibile prenotare via mail dai non residenti nella provincia di Sassari. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale Bayou Club Events, con la direzione artistica di Paolo Freso e contributo del Comune di Alghero, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari, Fondazione Alghero, Unipol Gruppo di Selle Mosca e del Banco di Sardegna, con il patrocinio dell'assessorato regionale del turismo. Filomena Campus proporrà brani tratti dal progetto Jester of Jazz, un raffinato mix di puro jazz contaminato da surreali invasioni felliniane attraverso brevi testi di Stefano Benni, Franca Rame, Maria Carta e altri autori e alcune anticipazioni da Queen Mab, un personaggio del Romeo e Giulietta di Shakespeare, dove l'artista mette a confronto Mab con il mito della Dea Madre delle Gianas, collegando le sue radici mediterranee alla musica jazz. Poco prima del concerto, Filomena Campus avrà anche modo di incontrare il pubblico e raccontarsi a colloquio con il giornalista Tonino Oppes, in questo caso l'appuntamento è per le 18 al Qualte. La società Dante Alighieri di Alghero ha il piacere di invitare la cittadinanza alla conferenza Levi e Dante all'Inferno e ritorno rapporti intertestuali tra se questo è un uomo, scusate, la Divina Commedia, cura del professor Nicola Salvio. L'incontro si terrà a sabato 27 gennaio presso la Sala Mosaico in via Carlo Alberto 72. L'ingresso è dal Museo Archeologico e avrà inizio alle ore 18. L'associazione, che ha sede presso il Museo Casamanno in via Santa Barbara 23, si ispira ai principi della società Dante Alighieri della quale è diretta emanazione nel territorio e pertanto persegue obiettivi di carattere sociale, culturale, civile e formativo, promuovendo le lingue, la cultura italiana, ma anche il patrimonio artistico e letterario e la valorizzazione del territorio. Facciamo un altro break pubblicitario. Ed ora allo sport, ripreso in questi giorni il campionato indoor del PGS tra la palestra del Mariotti e quella di Santa Maria La Palma. Tra le protagoniste è la futsal Alghero che ieri ha vinto 5-4 contro Style 1. di Muccelli, 32 autore di una tripletta e Cossu, i gol che hanno permesso ai giallorossi di conquistare altri tre punti. Da sottolineare che la futsal Alghero nei giorni scorsi si è confrontata con la Icnos Sassari in un'amichevole disputata nel capologo turritano riuscendo anche a vincere. Intanto una parte della dirigenza è stata domenica scorsa a Cagliari per il Clinic, l'evoluzione tattica del futsal e le difese individuali tenuto dal tecnico più vincente in Italia Fulvio Colini. Una bella esperienza per la società algherese che vuole proseguire nel percorso di crescita in vista di una futura partecipazione a un campionato FIGC. Ma sentiamo proprio le parole dell'allenatore giallorosso Fabio Cossu a margine della partita disputata ieri dalla Futsal Alghero. Allora, vittoria importante e prosegue bene la stagione della Futsal Alghero? Sì, vittoria importante continuiamo a divertirci continuiamo a far bene una grande prestazione anche se è macchiata da alcuni movimenti non corretti però siamo andati bene poi alla fine il risultato è quello che conta. Gruppo che cresce anche grazie a delle amichevoli che possiamo definire tra virgolette di prestigio. Sì, di prestigio ha detto bene ci siamo tolti come avevo detto qualche giorno fa qualche soddisfazione importante abbiamo incontrato prima Lossi e poi la Icnos con la quale abbiamo fatto un'ottima prestazione sono contento dei ragazzi si cresce si assimilano si recepiscono i movimenti e niente tutto procede ci prepariamo a una metà stagione a una ripresa diciamo di alcuni movimenti alcune nozioni fatti a inizio a inizio campionato per proseguire poi con quello col programma grande soddisfazione per la SD Valverde che vedrà domenica 28 gennaio il proprio tecnico il maestro Maurizio Gobino insegnare ad un seminario nazionale di Krav Maga ovvero il metodo di difesa personale elaborato dall'esercito israeliano e considerato uno dei più efficaci al mondo invertendo la tendenza di far arrivare maestri da fuori dall'Italia e dall'estero in Sardegna questa volta l'isola esporta un docente a insegnare i tecnici continentali Gobino Fresco di nomina di master e componente della commissione nazionale docenti è stato infatti invitato a insegnare a Sirtori sul lago di Lecco ad un seminario nazionale voluto dalla federazione VUCA per uniformare i programmi e le metodologie di insegnamento e dal ovviamente Krav Maga ai motori domenica al Qualte si è svolta l'assemblea annuale del team Alghero Corsi il primo appuntamento del 2018 ha visto davvero tanta partecipazione da parte di piloti e simpatizzanti a quella che è stata una riunione presieduta dal presidente Ettore Bello nella quale si è parlato di tutti gli appuntamenti per questa nuova stagione abbiamo intervistato proprio Bello domenica assemblea annuale del team Alghero Corsi come è stata la giornata e soprattutto siete soddisfatti dell'affluenza di piloti e simpatizzanti si diciamo che siamo tornati si può dire come ai tempi del 2013 quando mi hanno eletto presidente del team Alghero Corsi la sala era aggrimita di gente addirittura c'è stata gente che non è potuta venire per quanto riguarda appunto il periodo di influenza ma sennò sarebbe stato veramente anche difficile metterli tutti insieme ma ha fatto veramente piacere non solo per quanto riguarda il pubblico di simpatizzanti e sostenitori del team Alghero Corsi ma anche per quanto riguarda i piloti di che cosa si è parlato? si è parlato della stagione odierna 2018 di tutte le gare in programma che abbiamo e i supporti tecnici che daremo per quanto riguarda l'automobile club di Sassari mi ha fatto grandissimo piacere ringrazio tantissimo il sindaco di Alghero che ha partecipato alla nostra assemblea ringrazio Giulio Pesse per quanto riguarda appunto il presidente della Civi Sassari per la sua partecipazione all'assemblea del team Alghero Corsi e ringrazio il sindaco di Villanova-Monteleone Quirico Meloni che anche lui ha partecipato è stato con noi anche a pranzo anche perché comunque voi iniziate proprio con lo slalom del Villanova si iniziamo quest'anno con lo slalom del Villanova esattamente il 29 di aprile apriamo le danze come organizzazione del team Alghero Corsi per poi procedere appunto a maggio per quanto riguarda appunto la gara del Riviera del Corallo che è la 24esima salita dello slalom di Alghero che sarà il 27 di maggio per poi novità assoluta per quanto riguarda il team Alghero Corsi è il challenge che stiamo organizzando per fine anno che sarà intorno all'8 di dicembre nel piazzale della Pace Infine chiedo come nuovi tesseramenti? Nuovi tesseramenti quest'anno appunto è stato una bella esploade per quanto riguarda il team Alghero Corsi certo fa sempre piacere che la cosa aumenti perché ci dà la possibilità di andare avanti di continuare la nostra opera che è un'opera per quanto riguarda a livello di passione per quanto riguarda l'automobilismo salvo ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale vi lascio al meteo grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti